Musica Col diretti, Aral e Banca Popolare di Sondrio insieme in un progetto che prevede l'istituzione di un gruppo di acquisto collettivo per venire incontro ai bisogni impellenti degli allevatori della nostra provincia, pesantemente gravati dalla carenza e dai prezzi proibitivi del fieno che ha toccato quota 42 euro al quintale. Un protocollo di intesa, 26 firmatari, sono gli enti pubblici e le associazioni con Capofile e il Comune di Sondrio che stamane a Palazzo Pretorio hanno sottoscritto il documento per promuovere il contrasto alla violenza di genere, in particolare quella sulle donne. Il protocollo sancisce e rinnova la collaborazione tra gli attori del territorio coinvolti. Si celebra sabato anche a Sondrio la giornata nazionale per amore e per abio dedicata alla fondazione che dal 1978 si occupa dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale. I volontari dell'associazione che dal 1996 opera anche nel capoluogo e in piazza Garibaldi. Buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Col diretti, Aral e Banca Popolare di Sondrio insieme in un progetto che prevede l'istituzione di un gruppo di acquisto collettivo per venire incontro ai bisogni degli allevatori della nostra provincia, pesantemente gravati dalla carenza e dai prezzi proibitivi del fieno che da noi è arrivato addirittura a toccare il prezzo di 42 euro al quintale. Giuliano Padroni. Una risposta, un'azione concreta e corale al caro prezzi che tocca anche il comparto della zootecnia perché le condizioni dettate dall'attuale mercato rendono impossibile anche agli allevatori, categoria ben nota per la propria propensione alla resilienza, di poter andare avanti. Da una parte la mancanza di precipitazioni, un'estate torrida a cui a memoria Duomo nessuno ricorda di aver assistito, neanche nel 2003 e poi la speculazione connessa al conflitto tra Russia ed Ucraina pagato a caro prezzo da tutti. Ecco allora l'idea di un gruppo di acquisto collettivo di fieno, attori di questa iniziativa, col diretti Sondrio, Aral, l'associazione regionale allevatori, con la sua rappresentanza provinciale, con il supporto della Banca Popolare di Sondrio che per questo progetto ha predisposto uno specifico strumento finanziario. È una sinergia per chiudere il cerchio su un'iniziativa che può aiutare gli allevatori ad avere degli acquisti che facciamo in modo cumulativo ed avere dei foraggi per chi quest'anno dovrà bisogno di accedere ancora maggiormente sul mercato. Le aziende intanto denunciano una mancanza di prodotto che ammonta circa il 30% del normale raccolto, con un buon primo taglio ma un secondo di fatto mancante in molte località. Problema che ha riguardato oltretutto non solamente il fieno ma anche la coltura del mais, che in alcuni territori come la Piana di San Giacomo o Trezenda è stato quasi completamente compromesso. 298 le aziende agricole produttrici di latte vaccino controllate in maniera funzionale dal sistema allevatori di Aral sulla nostra provincia, che censisce sulla propria lista qualcosa come 12.500 vacche da latte su una stima provinciale di 14.500 capi. Per usare un termine che non uso mai ma però che è di uso comune posso dire che il mondo zootecnico è molto resiliente perché capisce che a momenti come questi poi magari possono seguire anche dei momenti più positivi. Ecco, e quindi non ho proprio sentito attività che vogliono chiudere, ho sentito molte, ho già verificato, attività che vogliono limitare un po' le produzioni e quindi cercano di ridurre il proprio patrimonio zootecnico per fare in modo di avere meno necessità di foraggio. Scelta comprensibile considerando che in alcuni casi, e parliamo della nostra provincia, il prezzo per un quintale di fieno è arrivato a superare i 40 euro. Come fare per poter aderire a questa campagna di acquisto? Beh, basta chiedere attraverso Federazione della Col di Retti, quindi chiamare gli uffici della Col di Retti oppure chiamare i nostri uffici dell'Associazione Regionale degli Allevatori qua a Sondrio. Si erano perse le sue tracce da ieri pomeriggio quando era uscita in bicicletta per allenarsi. Sono state ore di apprensione per le sorti di Gabriela Saucalova, 33enne atleta della Repubblica Ceca, in questi giorni in vacanza a Livigno con il marito. La donna, due volte campionessa mondiale di biathlon e due medaglie olimpiche, da qualche anno si era ritirata dalle competizioni ed è stata ritrovata stamattina sana e salva dai vigili del fuoco di Livigno e dai militari del SAGF, guardia di finanza di Bormio, impegnati nelle ricerche con il soccorso alpino. Ieri sera, dalla zona dei laghi di Cancano, la donna non era riuscita a tornare in valle dopo il giro in bici. È rimasta bloccata a 2.400 metri di quota e ha trascorso la notte alla ghiaccia, appunto. Dopo ore di ricerche e angoscia, stamattina, attorno a mezzogiorno, è stata individuata dai soccorritori in freddolita, ma in buone condizioni di salute. La salute è ancora un diritto, sfide e priorità del territorio. Questo è il titolo e il tema portante del convegno organizzato oggi a Sondrio dalla CISL. La riforma regionale della sanità e la mancanza di personale medico e infermieristico tra i punti più discussi, ma individuate le criticità, si è cercato anche di proporre delle soluzioni a medio e lungo termine. Ce ne parla Paolo Croce. La riforma regionale della sanità da portare a compimento, la cronica mancanza di personale medico-infermieristico, esigenze che sono mutate negli anni con l'invecchiamento della popolazione. Di tutto questo si è parlato in un convegno organizzato al PFP di Sondrio dalla CISL, dal titolo La salute è ancora un diritto, sfide e priorità del territorio. Filippo Cristoferi, Dipartimento Welfare CISL Lombardia, nella sua relazione introduttiva ha fotografato luce e ombre della sanità pubblica. Ugo Ducci, segretario generale della CISL, ha fatto invece il punto sulle eccellenze sanitarie per le quali dobbiamo andare fieri, senza nasconderne le criticità. La pandemia ha provato tanto le persone, le famiglie che si sono trovate in situazioni davvero difficili, però bisogna avere un messaggio di speranza. Viviamo in una regione che grazie a Dio, ripeto, ha delle eccellenze in medicina, quando un lombardo entra in un ospedale della Lombardia, entra in un luogo sicuro, preparato, adeguato. Basta? No, non basta. Ducci si riferisce alla mancanza di personale che fiaccherebbe qualsiasi piano sanitario. La sanità è uno dei cardini di un territorio, insieme all'istruzione, insieme alle infrastrutture e al lavoro. Un territorio non è più attrattivo se la sanità non ha una sanità all'altezza delle esigenze dei lavoratori. La domanda se la salute è ancora un diritto la lascio declinare a ciascuno di voi. Noi riteniamo che si può fare molto meglio, nella giornata di oggi metteremo delle idee, delle priorità, che secondo noi sono quelle di vicinanza, delle cure primarie e soprattutto dell'abbattimento delle liste, del mettere a terra quella che è la riforma sanitaria. Interessanti i punti usciti da questa giornata di confronto sulla sanità. La carenza di personale, che è il problema principale che sta affliggendo tutta l'Italia e in modo particolare i luoghi più disagiati, come possono essere i territori di montagna, mette in serio pericolo la possibilità di fornire le prestazioni all'utenza, le prestazioni che sono un diritto della persona. E qui i tempi della formazione universitaria non sembrano avere lo stesso passo delle esigenze della nostra sanità. Fatta la diagnosi, la cura non può che essere una serie di misure che rende attrattiva la provincia di Sondrio. Si fa un grande discutere di ospedale, ma si rischia davvero di non avere gli organici per un ospedale solo in questo frangente. È evidente che alcune soluzioni non si possono trovare in provincia di Sondrio, ma vanno trovate a livello generale. Però bisogna pensare a una politica di incentivi anche al personale che spinga la gente a venire in provincia, quindi gli stimoli. Sanità che è stato l'argomento principale di questa campagna elettorale, nella speranza che resti un tema di confronto anche dopo le elezioni. Promuovere e comunicare le attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne. I rappresentanti dei 26 partner tra enti pubblici e associazioni con capofila il Comune di Sondrio hanno sottoscritto stamane a Palazzo Pretorio il protocollo di intesa che sancisce e rinnova la collaborazione tra gli attori del territorio coinvolti. Sentiamo. Un documento, 26 firmatari tra enti pubblici e associazioni con il Comune Capoluogo Capofila per un obiettivo comune. La promozione di strategie condivise finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne. Oggi a Palazzo Pretorio la sottoscrizione ufficiale del protocollo di intesa che rappresenta l'evoluzione del vecchio testo siglato nel 2014. È stato ritoccato con delle nuove particolarità che sono state evidenziate dalle varie associazioni, le varie enti che firmano questo protocollo, sulla scorta dell'uso che ne è stato fatto negli anni passati. Al tavolo, accanto al sindaco Marco Scaramellini e all'assessore comunale alle pari opportunità Barbara Dell'Erba, sedevano il prefetto Roberto Bolognesi, il presidente della provincia Elio Moretti e il procuratore della Repubblica Piero Basilone, che per primi hanno posto la firma sul documento, seguiti poi dai rappresentanti dei partner presenti in sala consiglio. Vorrei ricordare che questo protocollo e questa partecipazione resta sempre aperta a chiunque voglia entrare a far parte di questa rete, quindi istituzioni ma anche soggetti che possono essere associazioni, tutti coloro i quali hanno nel loro DNA, diciamo, la problematica della violenza sulle donne e che possono fare qualche cosa per poter migliorare la situazione. Le parti hanno definito gli obiettivi del protocollo d'intesa, promuovere e consolidare una rete antiviolenza, raccordando i diversi soggetti, sviluppare procedure che permettano interventi tempestivi ed efficaci, promuovere azioni di sensibilizzazione e assicurare la necessaria integrazione tra le politiche locali, regionali e nazionali. Per ciascuno dei 26 firmatari sono elencati i diversi compiti. Nel nuovo protocollo si parla espressamente di lavoro. In particolare con la funzione dei centri per l'impiego, in quanto la normativa regionale, ha proprio chiesto un'integrazione importante tra politiche antiviolenza e politiche di promozione del lavoro, quindi anche a favore e soprattutto in favore delle donne che stanno cercando di attivare dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Altra importante integrazione al documento porta alla firma di ASST. Hanno previsto da un lato un servizio di reperibilità degli psicologi per quanto riguarda l'intervento in emergenza quando la donna è in pronto soccorso, quindi per dare un primo ascolto proprio psicologico alla donna nella situazione di emergenza e quando viene magari ricoverata con un ricovero sociale in ginecologia e la previsione di una collaborazione stretta con la questura per far nascere sul territorio un servizio che prenda in carico il maltrattante. Un modo insomma per lavorare anche sulle cause della violenza. Sul territorio provinciale sono presenti un centro antiviolenza e due case rifugio e strutture di ospitalità. La struttura del pronto intervento è di prima accoglienza della piccola opera di Traona e in questo momento abbiamo un'altra struttura di accoglienza sul territorio di Sondro che è gestita dalla cooperativa lotta contro l'emarginazione che metterà a disposizione su Sondro un appartamento per l'accoglienza di donne in fuoriuscita dalla violenza non a indirizzo segreto. Sebbene il protocollo si incentri soprattutto su prevenzione e contrasto della violenza purtroppo più diffusa cioè quella sulle donne nella versione siglata oggi si parla espressamente anche di violenza di genere. Quindi sarà oggetto di lavoro del prossimo triennio della rete antiviolenza proprio l'importanza di guardare la violenza anche nelle sue diverse sfaccettature di genere e quindi anche pensare se gli interventi che attualmente sono presenti sul territorio sono anche rispondenti alle nuove forme di violenza. Il tema dell'orientamento scolastico e professionale con una particolare attenzione alla nostra provincia ritenuta particolarmente allarmante. Al centro dell'incontro preelettorale tenutosi ieri a Morbegno con i candidati del Partito Più Europa con Emma Bonino. Simone Belletti. Incontro preelettorale ieri a Morbegno con i candidati del Partito Più Europa con Emma Bonino del collegio comprendente le province di Sondrio, Lecco e Como. Dopo il saluto di introduzione del segretario nazionale Benedetto della Vedova il candidato della lista Più Europa Stefano Morcelli ha introdotto il programma. Orientamento scolastico e professionale delle studentesse e degli studenti, formazione e lavoro, il futuro dei giovani, le tematiche principali su cui costruire la crescita del paese secondo questo partito che nell'incontro di Morbegno ha visto come candidati Olivia Ratti di Lecco e Luca Monti di Como. Più Europa con Emma Bonino si presenta alle elezioni del 25 settembre nella coalizione del centro-sinistra insieme al Partito Democratico, scegliendo come motto del proprio programma elettorale una generazione avanti per una politica come non ci fosse un domani. Io mi sento di dire prima di tutto che un territorio come il nostro della Valtellina, della provincia di Sondrio deve assolutamente prendere in considerazione come valorizzare il futuro dei giovani e il futuro dei giovani lo si valorizza partendo dal loro coinvolgimento e dalla loro formazione ed istruzione. Ci sono diverse difficoltà legate al mismatching e l'incompatibilità tra il mondo del lavoro e i lavoratori che sono oggi disponibili a lavorare. Partendo da una formazione più qualificata sicuramente possiamo andare a risolvere questo problema. I giovani al centro del programma. Una delle proposte che ci distingue è sicuramente quella della formazione lungo tutto l'arco della vita e dell'orientamento costante nel tempo con una organizzazione che si occupi solo di quello. E poi abbiamo anche alcune idee che riguardano per esempio la formazione terziaria, quindi gli ITS, come poterli lanciare veramente perché adesso rappresentano solamente una piccola parte della formazione, come incentivare la formazione professionale e farla diventare un vero pilastro della formazione in Italia. Il programma nel suo insieme non prevede debito pubblico supplementare. Per ogni proposta di spesa c'è una proposta di copertura e questo per non aggravare ulteriormente il debito pubblico italiano e quindi per non lasciare alle prossime generazioni dei debiti supplementari. Un altro tema della nostra campagna elettorale che riguarda in qualche modo questo tema della professionalità e del personale è quello che noi proponiamo rispetto all'immigrazione, il superamento della bossi fini e proponiamo che le persone straniere che sono già in Italia siano regolarizzate in maniera che possano trovare lavoro regolare. È stata sottolineata l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro, un elemento su cui bisogna puntare maggiormente in futuro. Fare una corretta alternanza scuola-lavoro insegna ai ragazzi a capire qual è il mondo del lavoro e quindi proiettarsi in un futuro che durante il periodo scolastico non riescono a comprendere. Difficile poi che si ricollocano durante l'estate per fare delle esperienze di lavoro perché la maggior parte dei ragazzi sono minorenni. E quindi l'alternanza è molto importante. Nella mia impresa ci sono otto persone che lavorano e sono passate da noi con l'alternanza scuola-lavoro. Quindi direi un elemento importante. Due squadre che si sono date il cambio in questi giorni, un escavatore e altri mezzi di soccorso. Così anche i vigili del fuoco di Sondolo sono corsi in aiuto alla popolazione delle Marche messe in ginocchio dalla terribile alluvione. Il gruppo Movimento Terra della colonna mobile provinciale ha lavorato a Cantiano, uno dei paesi maggiormente colpiti dalla forza della natura. Vediamo. Nei giorni scorsi, con dovizia di particolari, vi abbiamo raccontato delle esercitazioni e dei corsi tenuti dal SAF, interventi speleolpino-fluviali, nella caserma di Sondolo e Vigile del Fuoco e in località Sassella. La fragilità del territorio italiano richiede spesso l'intervento di uomini e mezzi della nostra provincia. L'ultimo esempio, purtroppo, ha portato gli uomini del comando provinciale a prestare aiuto alla popolazione delle Marche, colpita giusto una settimana fa da un alluvione che ha causato 11 vittime e ingenti danni. Il gruppo Movimento Terra della colonna mobile provinciale ha infatti lavorato nella provincia di Pesaro e Orbino, in particolare nel paese di Cantiano, uno di quelli che ha subito i danni maggiori con un escavatore e altri due mezzi. Nel fango hanno cercato di salvare il salvabile e prestare aiuto alla popolazione prima di ricevere il cambio da un'altra squadra sempre di Sondolo. Le squadre del comando avvicendano i colleghi che sono già partiti per questa calamità nazionale, andranno a Pesaro e Orbino a continuare l'attività come GOS, gruppo operativo speciale. Sono i mezzi di Movimento Terra che andranno ad operare in un contesto veramente particolare, con detriti, fango, arcata di punti da liberare e sarà molto molto arduo questo intervento. È il punto di forza della colonna mobile, siamo in grado di partire ricevuto l'input dal Centro Operativo Nazionale e da tutti i comandi coloro che sono in grado di assolvere la loro funzione sono immediatamente attivati. Sotto la regia del coordinatore Elio Salinetti, gli uomini del GOS, il gruppo operativo speciale attrezzati con mezzi per il Movimento Terra, sono impegnati nei fiumi invasi e resi pericolosi dal materiale spostato dalla forza dell'alluvione. Saremo nell'alluvio di un fiume a deviare questo fiume che si è creata una viga e andiamo a smassare e a riportare il fiume nel suo letto originale. Si sta lavorando in uno scenario molto impegnativo, chiaramente ci riporta anche tante tragedie di casa nostra e si conferma ancora una volta il grande impegno dei vigili del fuoco valtelinesi nel prestare soccorso in caso di calamità naturali come dal resto è accaduto anche nel recente passato in Sicilia quando il territorio è stato divorato da spaventosi incendi. Si avvicina l'apertura dell'anno accademico dell'Uni3, l'Università delle Tre Età di Sondrio. Il programma delle lezioni è in via di definizione, i primi corsi e i primi appuntamenti nella sede di Via Battisti sono già iniziati. Nel presentarli la Presidente Arista rivolge un appello ad iscriversi e l'unico modo, dice, per continuare a svolgere la nostra attività. Vediamo. Le lezioni vere e proprie inizieranno più avanti, ma il motore dell'Uni3 Sondrio è già acceso per questo nuovo anno accademico, il numero 34. Dall'apertura del Club del Brigio e all'incontro preliminare del coro diretto dal maestro Nicola Spini, a quello dedicato a svelare i segreti dell'utilizzo di computer e soprattutto smartphone, la sede di Via Battisti ha riaperto le porte ai soci, soci il cui numero l'Università delle Tre Età ha estrema necessità di incrementare per non interrompere un'attività che tanto ha dato, anche in termini di socialità, a centinaia e centinaia di persone del capoluogo e non solo. La pandemia ci ha costretto, diciamo, prima alla chiusura, poi alle misure di distanziamento, insomma, le persone si sono un po' allontanate per prudenza sicuramente, però adesso noi speriamo di riprendere a pieno ritmo con il sostegno dei nostri scritti. La prolusione di inaugurazione dell'anno accademico sarà tenuta dalla storica dell'arte e curatrice di mostre Anna Torterolo e sarà dedicata ad Antonio Canova e la bellezza nel duecentesimo della morte dello scultore. Lungo il mese di ottobre, prima dell'avvio delle lezioni vere e proprie, è previsti una visita guidata con Francesca Bormetti alla mostra per il centenario di fondazione della società storica valtellinese al Palazzo del BIM, le proiezioni di alcuni documentari di passate edizioni del Sondio Festival e della Bohème di Rossini e l'inizio dei corsi di ginnastica e di lingua inglese. Noi accogliamo tutti senza distinzione di età. Conferenze, laboratori, iniziative culturali e di tempo libero sono davvero tanti i motivi per iscriversi all'Uni3. Non si sostengono esami, la frequenza non è obbligatoria, ma c'è una lezione che vale sempre e per tutti. Non si finisce mai né di imparare né di conoscere, anche nel senso di fare nuove conoscenze. I nostri incontri sono il pretesto per parlare con conoscenti, amiche e quindi avere un minimo di socialità che normalmente potrebbe essere ridotto. Per informazioni www.unitresondio.it Si celebra sabato anche a Sondrio la giornata nazionale per amore per Abio dedicata alla fondazione che dal 1978 si occupa dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di tutta Italia. Per aiutare Abio, presente dal 1996 anche nel capoluogo, sarà possibile incontrare i volontari dell'associazione in Piazza Garibaldi. Vediamo. È in programma per sabato 24 settembre la diciottesima giornata nazionale per amore per Abio, giunta la sua diciottesima edizione. Fondazione Abio dal 1978 è l'associazione al fianco dei bambini ricoverati in ospedale, degli adolescenti e dei genitori che si trovano ad attraversare un periodo talvolta duro e che proprio sui più piccoli può instillare paure legate alle cure e all'ambiente, lontano da quello rassicurante delle proprie case. Una giornata dedicata all'incontro e al racconto di una storia a misura di bambino che parla da oltre 40 anni, di volontariato in ospedale al fianco dei bambini e dei ragazzi. Così recita il programma di quella che sarà la giornata di sabato in tutte quelle città nelle quali Abio opera con tanta reddizione. 5.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 58 associazioni Abio lungo l'intera penisola, proprio come a Sondrio dove Abio opera dal 1996 con 12 volontari attivi che grazie al prezioso supporto di tanti donatori portano avanti progetti come ospedale a colori, accoglienza, nati per leggere e ancora operazione a colori, Abio fascia e accoglienza e sostegno centro vaccinale anti-covid. Un impegno costante che garantisce ai propri operatori volontari la formazione necessaria a poter operare nei reparti pediatrici, dando ai più piccoli e agli adolescenti una presenza con sale giochi e luoghi che garantiscano ai minori uno spazio per l'immaginazione, per la serenità, da cui poter guardare oltre ai confini delimitati dei reparti ospedalieri in cui sono ospitati. Un servizio di fondamentale importanza è che dopo le sferzate della pandemia ha ancora più bisogno di sostegno. Ecco allora che sabato 24 settembre in piazza Garibaldi a Sondrio la giornata organizzata da Abio offrirà la possibilità di meglio conoscere la realtà di questa associazione di volontariato confrontandosi con quelli che ne sono l'anima, gli operatori appunto, supportandone l'operato con un'offerta in cambio della quale sarà possibile ricevere un cestino di buonissime pere, simbolo di questa importante giornata di sensibilizzazione. Ma supportare Abio sarà possibile anche per coloro che non potranno essere presenti nella centrale piazza del capoluogo visitando il sito www.giornatanazionaleabio.org dove dal 15 al 30 settembre si potranno incontrare virtualmente i volontari di questa associazione così vicino ai piccoli pazienti dei nostri ospedali. È tutto, grazie per essere stati con noi.